Siamo notati Gesù e Maria, sempre e sempre, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la Santa Missa dell'Estiva della quattordicesima domenica del tempo binario, la liturgia della parola oggi intende particolarmente, facci soffermare l'attenzione su due distinti temi che poi sono articolati nella prima e nella seconda parte del Vangelo e sui quali, se Dio mi aiuterà, intenderei distintamente soffermarmi nella prima e nella seconda venia. La prima parte del Vangelo, che si può leggere insieme alla prima lettura, ci ricorda l'importanza di conoscere Gesù, di conoscere Dio, di aprire il cuore a questa conoscenza e di permettere a Dio di incontrarci e di consegnarci. Adesso però vedremo un'idea adeguata e corretta di chi lui è, perché senza conoscenza, figlioni miei cari, non ci può essere a voi. Se noi Dio non lo conosciamo, non potremo mai amarlo. Se non lo amiamo, non potremo servirlo e se non lo serviamo, non potremo poterlo. Questa è proprio la logica molto, molto conseguenziale del Catechismo antico, che è antico tanto, diciamo, come data, ma sempre nuovo come contenuto. Mentre la seconda parte del Vangelo invita Gesù, una volta che si sia presa percezione di chi lui è, a non avere paura, ad abbandonarsi completamente a lui e a prendere il suo gioco, imparando da lui, dimettendosi alla sua scuola, sapendo che in essa si troverà ristoro e felicità. Questa seconda parte, se Dio vuole, sarà oggetto dell'omenia di domani mattina. Vediamo la prima, cominciata dalla prima lettura. La prima lettura è una profezia sull'avvento del Messia, che è Gesù, sapete che Gesù ha avviuto testualmente questa profezia, quindi quando è l'ingresso a Gerusalemme. Che cavalcavura aveva Gesù quando è entrato a Gerusalemme? Che cosa cavalcava su un cavallo? No, cavalcava su un ansimo, proprio perché voleva riempire questa profezia, che adesso le leggiamo, no? Esulta grandemente, fino a lì, siano, giubili la figlia di Gerusalemme. Gesù è entrato, riempire! Eccovi a te il tuo re, egli è giusto, il vittorioso, è umile, la valca un asimo, un buleto, figlio di asimo. Vi vedete come è intelligente, eh? Tutte quante le cose le fa e fa sempre, con estrema intelligenza. E che cosa farà questo grande re? L'atteso delle gente, farà sparire i carri da Efra, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzerà la pace alle gente sappiamo che Gesù è il principe della pace e che porta la pace universale, innanzitutto pace fra noi e Dio pace nei nostri cuori pace tra di noi e quindi pace con tutti, questa è la missione e l'indiettazione di Gesù ora, Gesù del Vangelo ci dice attenzione nessuno conosce il padre se non il figlio nessuno conosce il figlio se non il padre e soltanto adeguata conoscenza di Dio ce l'avrà lui a cui il figlio la rivela cosa significa questo? significa che per conoscere Dio noi dobbiamo accogliere Gesù lui e il messaggio che lui ci porta per accogliere questo messaggio che dice Gesù nella prima parte di questo Vangelo dice ti benedico padre o è una delle volte che Gesù nel testo greco ci sta scritto che Gesù è proprio come dire una botta di gioia tanto è vero che questo perché questo versetto gli esergeti lo diamano l'inno di giubilo cioè era proprio contento ha un attimo attuale che bello è così ti benedico padre perché le loro nascoste queste cose sapienti e intelligenti e le ha liberate ai piccoli nel corso della storia della chiesa questa santa verità è continuamente stata confermata nel corso della storia sapete che siamo nel centenario di Fatima no? i pastorelli di Fatima chi era? bambino di? 7 8 e 11 anni grado di cultura? 0 erano alfabeti secondo me l'hanno conosciuto bene e c'è una manovra con questi bambini o no? oggi è l'8 di luglio noi siamo della Dioce di Davina che si chiama Siamo Morita io il 6 luglio dicevo che è la prima volta che da quando sono nato ho festeggiato la festa di Santa Maria Voretti non come festa come festa ma non come solitare perché era padrona di retina dell'agrocontino noi siamo in Dioce sì ma non siamo nella città quindi qui è stata festa non solitare quindi per me è stato un mezzo trauma la nostra padrona è Santa Maria Voretti no? qui a Senza e Poglia appunto vedranno San Lidano che poi è la vecchia di Occi di Senza no? Santa Maria Voretti che grado di istruzione c'aveva? quante lauree c'aveva? quante dottorate o assaglienza c'aveva? quanti studi aveva fatto? 0 e che conoscenza avevano questi testimoni di Dio? magari io ho sempre raccontato io nella mia vita nelle parrocchie dove sono stato ho conosciuto esiste un cultore alcune persone analfabete analfabete cioè che non sanno neanche fare una firma non sanno leggere non sanno scrivere però qualcuna di queste io con tutta quanta la mia cultura le lauree che davanti a Dio contano meno che polvere davanti a qualcuna di queste persone lo mette in ginocchio perché la conoscenza che c'ha di Dio e la popa è la semplice anima a superare quella che ho io con tutta Dio perché è radicata in profonda ed è semplicemente vera va all'essenza noi oggi facciamo un sacco di guardate piacchiere e cose anche a volte Dio è di una semplicità assolutamente estrema e che si rivela in tutta la sua estrema semplicità soltanto in chi è umile e arriverà dei piccoli cioè uno può anche avvenire la laurea perché adesso non può verare i laureani quando può prendere una pistola e le volvere se c'è il peccato se non hanno tanto studiato se ha preso la laurea non è un problema del titolo è un problema di chi ti senti cioè noi per conoscere adeguatamente Dio dobbiamo entrare nel suo mondo capite Gesù dice anzi Dio nel testo molto molto bene il profeta 6 dice una cosa state attenti i miei pensieri non sono i vostri pensieri le mie vie non sono le vostre vie tanto i cieli sovrassano la terra quanto le mie vie sovrassano le vostre vie i miei pensieri sono i nostri pensieri quindi noi non possiamo mai quando entriamo in contatto con Dio avere quelli che sono i nostri pregiudizi i nostri scambitani cioè secondo me Dio è così oggi c'è la legge che lo chiamo la legge del secondo me secondo me è questo secondo me su questo Dio non c'è niente di male secondo me Dio la pensa così però secondo me secondo te per carità noi siamo esseri umani degni di rispetto le nostre idee sono degni di rispetto però secondo te non lo conosci ti faccio subito una domanda secondo me non c'è niente di male se due ragazzi che si amano si amano cioè c'è qualcosa di male non c'è niente di male secondo Santa Maria Corretta c'è tanto di male tanto di male che preferisco farmi ammazzare 14 punti volate piuttosto che subire una violenza che vogliamo fare? ci capitano i giovani di oggi no? con chi è un grande dono ma sono la loro poluzione c'è niente di male io sono d'accordo che tu non ci vedi niente di male però noi siamo dinanzi a questa testimone analfabeta che si è fatto ammazzare con 14 punti volate che vogliamo fare? c'è ragione tu che non ci vedi niente di male c'è ragione lei capite l'essere piccoli l'essere umile ma quindi io nel 2017 devo ancora stare a pensare che i rapporti prematrimoniali sono peccato mortale ma il mondo è cambiato la società è cambiata che cosa vogliamo fare? parliamo di pastorelli di Fatima gli altri piccoli in stessa estate ci hanno detto per il renaggio io rapporto sempre io quando conomi le apparizioni di Fatima ebbe un sano e sopronaturale shock scioccato sul maestro dice e che sarà mai la Madonna ha parlato poco a Fatima però la Madonna ha parlato anche molto di anni voi sapete che dopo domani il prossimo il 13 luglio ogni 13 sapete che le apparizioni di Fatima sono state in corso dal 13 maggio del 2017 e nel 1917 sapete che il 13 maggio il Papa è stato lì e ha canonizzato i pastorelli i più piccoli Jacinta e Francesco sono i più giovani santi della storia della chiesa santi secondo me bisognerebbe fare i produttori della chiesa quasi quasi per quanto sono andati in alto d'accordo 13 maggio 13 giugno 13 luglio 13 che non era 13 ma è stata spostata in due giorni per motivazioni che sono nel caso di dire il 13 settembre il 13 ottimo l'ultima d'accordo sapete il 13 luglio del 2017 che cosa è successo sono stati liberati i famosi dei segreti di Fatima tutti parlano del terzo segreto che non gli sta bene sapete quali sono i segreti lasciamo perdere quelli che riguardano le profezie futuri che poi sono tutte compiute tragicamente ma sapete qual è il primo segreto di Fatima solo io dove mi dice noi siamo cattolici non sapete bene queste cose Fatima sono le lezioni riconosciute chi lo sa qual è il primo segreto di Fatima lo sa sapete qual è il primo segreto di Fatima è durato durato pochissimo a stivori pastorelli bambini di 7 8 ripeto 11 anni la Madonna a un certo punto li ha aperto la terra sotto gli occhi aperta proprio aperta hanno visto un mare di un luogo devastante dei mostri che facevano così dentro quelle chiave che sono i demoni e poi hanno visto c'erano delle persone che c'erano sembianze umane prima di entrare dentro il fiamme entrano quando le fiamme non uscivano come i mostri la visione è durata qualche un secondo hanno lasciato dentro ma se non ci fosse stata la Madonna vicina a tutti sarebbero morti di crepatore a dire non quanto ma voi l'avreste fatta una cosa del genere io mi ricordo da parlo tra le esperienze che mi ricevute mi ricordo non mi ricordo quante e due però mi ricordo l'episodio una volta durante i corsi di catechismo c'è un catechista un catechista che ai ragazzini del catechismo un giorno gli ha parlato dell'inferno del diavolo insomma non credo che gli abbia e qualche ragazzino è rimasto mezzo traumatizzato l'altro diceva che è venuta la mamma voi raccontate ai bambini che esistono i demoni di un inferno questi sono terrorizzati dico vabbè un po' di diavolo insomma ma mi farò spiegare insomma perché sai ai bambini che stanno mettendo alcune cose che di per quindi la madonna non avrebbe avuto da prendere come un catechista parrocchia che faceva arrabbiare i genitori che si parlava dell'inferno in questo modo allora io quando mi dico la cosa io mi dico ma signore che pensate voi vedete perché più di essere piccoli davanti a Dio cioè questa è una cosa che sconvolge i nostri modi di pensura avresti fatto far vedere una cosa del genere a un bambino di sette anni dandogli un trauma insomma guardate che vederli l'inferno e vederli i demoni penso sia una cosa abbastanza traumatica io non ho avuto questa disgrazia spero che il signore me ne voglia preservare in questa e nell'altra vita ma rilevo che non sia una cosa molto molto gradevole molto molto bella eppure questi l'hanno vissuto c'era un motivo e certo che c'era un motivo certo che c'era un motivo perché la Madonna viene lontano che come l'inferno l'esistenza dei demoni sarebbe stata una verità di fede che nel corso del XX sembra sarebbe andata sempre più diventando evanescente cioè c'è teologi che non ci crede proprio eh anche teologi che non ci credono che ritengono che il male sia una sorta di concetto astratto cioè non esistono degli esseri personali cioè gli angeli ribelli che si sono diventati a Dio e che in continuazione incitano l'uomo al male e che c'è quindi una lotta noi siamo un certo di contesa nelle nostre anime tra Dio che ci ave infinitamente e ci vuole con sé e il diavolo che ci ave infinitamente cerca di spingerci al male per trascinarci dall'inferno questa è la dottrina cattolica che è stata insegnata per venti secoli capite? ma non sempre ho disegnato questa percezione la Madonna la Madonna poi spiegò due cose a proposito di Santa Maria Corretti quali sono i peccati che portano più anni all'inferno ha detto la Madonna affanica i peccati della carne quelli per cui Santa Maria Corretti si è fatta ammazzare e qual è una cosa problematica che sarebbe successo verranno mode e offenderanno molto Dio la Chiesa non ha mode i figli di Dio di non ricordare che la verità resta sempre la stessa le famose mode periconde che oggi purtroppo sono il dominio pubblico Chiese non escluse matrimoni in Chiesa non escluse e fanno addannare i pari e si cercano che faccia qualcosa perché le persone non le capiscono tante cose che dovrebbero essere ovvie capite? quindi per accogliere questo io volevo concludere dobbiamo avere il cuore vincolo Gesù dice queste cose sono nascoste chi sono se mi entri intelligenti non i laureati ma sono quelli che si pensano dall'alto del loro progresso delle cose che cambiano di poter giudicare Dio nella sua legge e quindi capite? non è Dio che si propone a noi e ci dice guarda figlio apri il cuore questa cosa è così anche se a te oggi ti sembra strada aspetta pensaci non mettere subito uno no? sono quelli che le cose sono quelli che sono oggi le cose stanno così le cose devono stare così guardate che sono discorsi molto molto concre sono le persone che pensano stupidamente che la chiesa dovrebbe aggiornarsi che dovrebbe adeguarsi che sono tante cose che non funzionano che il voto è più avanti che noi siamo rimasti indietro quindi sono cose molto concrete che dicono allora a queste persone secondo voi Dio che fa? Dio ti nasconde si rivela diciamo piccolo desideroso di conoscere e di ascoltare ma chi ha questo atteggiamento di sfida di superbia di dragolazza ne dice beh tieniti le due opinioni che Dio stesso rispetta ma tu a Dio non c'è di conosci e a volte può anche succedere che tu pensi di conoscere Dio perché tu ti hai prestato la tua idea a lui ma tu non conosci Dio e guardate che tra l'altro io posso dire che purtroppo queste cose oggi sono abbastanza diffuse e cambia come dire fare delle cose ridicole no cioè capite cioè con tutto dovuto rispetto un sacerdote secondo voi ma ne saprà un pochino di più su Dio della sua legge di un fedele laico anche se un sacerdote è proprio il più sgrazo che esiste forse sì no capite ma sai quante volte un prete si trovava con l'anima del mio egognato diceva sempre lo faceva al medico e io una volta e volte ai miei pazienti mi dico non c'ho questo allora questa è la diagnosi e fammi questa ricetta che ci sei voluta a farmi se hai già fatto la diagnosi e la ricetta che c'hai a farmi ma guardate io mi dico oh io pensavo essere la stessa cosa ma non mi sto a prendere perché non parla con me questo è il problema ma questa è la soluzione e questo è quello che Dio vuole Dico fallo allora che vuole capite per farmi questi comportamenti dobbiamo rettificarli perché Dio guardate si rivela tutta la sua pienezza e tanto a chi lo cerca a cuore di cielo umile si chiude si ritrae a chi invece pensa in qualche modo di dover diventare legge e quando Dio fa queste vecchie provocazioni una santa Maria Corenti un pastorello di Fani ma chi fa queste diventazioni forti lo fa promuovere la nostra coscienza e dire fermati fai un passo indietro non ti metterai a giudicare le opere di Dio ma lasciali interrogare da quello che Dio fa e se ti cade qualche schema e qualche idea mazzana meglio perché è esattamente quello che Dio vuole chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a crescere tutti nella conoscenza del suo figlio Gesù perché da questa dipende il nostro amore per lui e dall'amore per lui dipende la felicità in questa e nell'altra vita siamo notati Gesù e Maria grazie a tutti